Da fuori come giudica l'operato, i comportamenti del sindaco Bitonci? Cosa emerge? Io quello che posso vedere lavorando in città è che la città è decisamente più controllata rispetto a prima. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, i controlli della polizia ci sono. Quindi il centro storico è sicuramente più tranquillo rispetto a prima. Io non ho nulla da lamentare per i suoi rapporti con i cittadini. Con le minoranze è un problema molto difficile e non credo che nessuno abbia una soluzione in tasca. Non ce l'ha Bitonci ma non ce l'hanno neanche tante persone che sono molto vocali. Non mi sembra che faccia grandi cose però gli sforzi si vedono e si notano. Non c'è qualche miglioramento in città? No, direi di no. Le cose sono sempre uguali. Non è che vedo nessun tipo di cambiamento. Però se non altro qualche sforzo in più c'è. Rispetto alla giunta precedente sicuramente si sono viste delle novità interessanti da questo punto di vista. Dal punto di vista sicuramente che della sicurezza. Sicuramente quello che appare è un po' una svolta, una rottura rispetto al passato. Però da qua a dire come andranno le cose penso che sarà il tempo e i fatti poi concludenti a dirci qual è la sua politica.